Buonasera, ben ritrovati, sono passati alcuni giorni e nel frattempo le notizie che arrivano dalla protezione civile sono sempre migliori, sempre più incoraggianti. I nuovi contagi in Italia sono soltanto 355 nella giornata di oggi, i deceduti sono 75, i guariti 1874, i positivi sono 1616 in meno rispetto a ieri. Ormai la pandemia sembra abbondantemente sotto controllo, i numeri che arrivano sono molto, molto, molto incoraggianti. In Puglia nella giornata di oggi ci sono 4 casi di positivi in più su 1860 test effettuati, quindi apparentemente potremmo dire che il virus non è quasi più presente nella nostra regione dai dati ufficiali ovviamente, per cui ci riferiamo sempre a coloro che hanno dei sintomi che sono ormai praticamente assenti e gli operatori sanitari a cui viene ormai effettuato il tampone di routine ogni 15 giorni. I casi di persone contagiate in Puglia dall'inizio ad oggi è di 4.494 pugliesi, i deceduti sono 504, i guariti 2.813 attualmente risultano positive 1.177 persone. In provincia di Brindisi non ci sono contagi, dall'inizio ad oggi abbiamo avuto 651 contagi, mentre a Mesagne abbiamo tre nuovi guariti e nessun altro contagio. A Mesagne dall'inizio della pandemia abbiamo avuto 40 persone contagiate, di cui oggi 5 risultano ancora positive, 31 guariti e 4 deceduti. Questi sono giorni molto intensi, giorni in cui stiamo lavorando per capire in che termini supportare tutti coloro che hanno subito una battuta d'arresto a causa del coronavirus seria che ha prodotto anche danni economici. Quindi ci riferiamo a tutte le attività commerciali, di ristorazione, bar eccetera, ma anche a tutti coloro che a causa di questo stop hanno perso il lavoro, i precari, a breve, insomma dobbiamo comunque porre al centro della nostra azione, intendo ovviamente, parlo del governo centrale, i problemi di coloro che escono veramente con le ossa rotte da questa vicenda così complicata. Per cui è bene seguire ciò che sta avvenendo a livello centrale, noi siamo sempre molto attenti a ciò che avviene a Roma, ma siamo anche molto attenti a ciò che avviene presso la regione Puglia, perché da queste istituzioni devono arrivare tutte quelle novità che parlano di sostegno sia ai professionisti, sia alle partite IVA, ma anche a tutte le piccole e medie imprese che insistono sul nostro territorio. Ed alcune misure ci sono e sono interessanti, ad esempio io vi confermo che il 4 giugno in Puglia parte il microcredito, c'è l'opportunità di richiedere questo prestito di 30 mila Euro nella forma massima, parliamo di attività già attive che possono, sulla base del proprio fatturato, chiedere fino a 30 mila Euro di prestito, però questi 30 mila Euro, una parte di queste risorse, il 20%, 6 mila Euro, sono a fondo perduto, cioè chi ha bisogno di queste risorse richiede 30 mila Euro, 6 mila Euro non dovranno essere più restituiti, gli altri 24 mila Euro si restituiscono però a partire da un anno dopo all'ottenimento del prestito, quindi uno comincia a restituire un anno dopo con 60 rate mensili e senza interessi, una misura molto più importante. Poi se le imprese sono un po' più grandi, oltre al micro prestito c'è il cosiddetto titolo secondo, si tratta sempre di finanziamenti che prevedono una parte di fondo perduto per le imprese che hanno personale e che lo hanno conservato anche nonostante la crisi dovuta al coronavirus. Ribadisco, queste misure saranno già attive il 4 giugno e faremo in modo di informarvi puntualmente su come potranno essere reperite. Nel frattempo attendiamo che anche il Governo centrale continui ad attuare misure che vadano a sostegno non solo delle famiglie e delle imprese, ma anche degli enti locali. Perché? Perché in seconda battuta un problema molto serio si sta verificando per i comuni, perché i comuni che hanno differito tutti i tributi, le entrate derivanti dai tributi, perché abbiamo dato l'opportunità alle persone di non pagare ora le tasse, ma abbiamo differito appunto il pagamento delle tasse, però questo sta determinando un mancato introito molto significativo, molto importante che potrebbe mettere in crisi i bilanci dei comuni. Per cui siamo in attesa trepitante affinché dal Governo arrivino delle misure che possano ristorare queste mancate entrate. È essenziale perché noi abbiamo un animo di aiutare i nostri concittadini, di provare a farli pagare meno tasse possibile, però questo può avvenire nel momento in cui il Governo farà il suo dovere. A tal proposito, ad esempio comunico ufficialmente che l'Imu non dovrà essere versata così come previsto dalla norma entro il 16 giugno, ma questa data viene differita al 31 luglio. Abbiamo preferito prendere un po' di tempo nella speranza che arrivino delle misure che ci possano permettere di far pagare meno i nostri concittadini. Lo stesso discorso varrà anche per altri tributi. Stiamo trovando a studiare alcune formule che ci possano permettere di detassare alcune categorie, in particolar modo ripeto coloro che hanno visto le loro attività chiuse in questo periodo così lungo e quindi a breve anche da questo punto di vista avremo delle novità. Per quanto concerne invece i pericoli che qualcuno intravede rispetto alla gestione della pandemia, io sono tra coloro che ovviamente rimane, sono sempre abbastanza cauto rispetto alla gestione di questa fase, ma registro con molto favore il fatto che i numeri ormai si stanno attestando veramente su livelli tali da permetterci di essere moderatamente ottimisti. Che significa? Adesso ad esempio si è aperto un dibattito a livello nazionale sulla cosiddetta movida, cioè sui momenti di aggregazione che riguardano soprattutto le giovani generazioni e che hanno come punto di ritrovo i locali, i bar e i ristoranti e che oggi evidentemente potrebbero rappresentare un pericolo secondo ciò che ci dicono dal governo centrale. A tal proposito il prefetto di Brindisi, insieme al questore, insieme al capo dei carabinieri e della finanza della provincia di Brindisi, hanno voluto incontrare, ovviamente sempre con la modalità a distanza, i sindaci di Brindisi, di Mesagne, di Francavilla, di San Vito dei Normanni, di Ostuni, Fasano e Ceglie Messapica, ossia i comuni con più di 20 mila abitanti, per sollecitarci a controllare bene cosa avviene nei paraggi, nei pressi di queste attività. Certo c'è stato un dibattito, abbiamo discusso, c'è stato il sindaco di Francavilla che ha ritenuto di fare un'ordinanza che prevede una chiusura anticipata dei locali e che prevede una modalità di somministrazione delle bevande che ha dei limiti a partire da un certo orario in alcuni giorni della settimana, per cui c'è stata una scelta che evidentemente il sindaco di quella città ha fatto valutando ciò che viene nella propria città, perché poi non tutte le città hanno gli stessi problemi, non tutte le città hanno una organizzazione simile o assimilabile, non tutte le città hanno attività che possano considerarsi anche simili o no. Noi abbiamo preferito non fare alcuna ordinanza di limitazione degli orari perché confidiamo pienamente nelle capacità dei nostri gestori di poter tenere sotto controllo anche l'afflusso dei clienti. E io nella giornata di ieri, a partire dalle 20 fino alle 24, sono stato nel centro storico, ma anche in giro per la città, anche fuori dal centro storico, insieme ai vigili urbani per verificare anche visivamente ciò che sta accadendo. Ovviamente Mesagni, come tutti gli altri comuni di cui ho parlato, sono stati monitorati, controllati dalla Guardia di Finanza, dai Carabinieri e dalla Polizia e in alcuni casi anche dal battaglione San Marco e mi riferisco soprattutto alla città di Brindisi dove c'è stato anche il battaglione San Marco per verificare cosa avviene all'interno dei locali, quindi ristoranti, bar, luoghi di intrattenimento che insistono anche in maniera importante nei nostri territori. Guardate che il risultato è stato straordinario perché tutte le verifiche del caso ci hanno dimostrato che c'è profonda attenzione da parte dei nostri gestori, c'è consapevolezza del fatto che per poter continuare ad avere questi numeri così bassi dal punto di vista della diffusione del virus occorre stare attenti, occorre mantenere le distanze, occorre rispettare tutte le regole, quindi bisogna all'interno degli stessi usare i dispositivi di sicurezza, bisogna mettere a disposizione il gel, bisogna fare tutto ciò che è necessario e io ribadisco, sono orgoglioso di aver visto con i miei occhi con quanta premura i nostri gestori abbiano lavorato, per cui non ha nessun senso, nessun senso attuare misure restrittive in un contesto in cui i numeri della pandemia ci danno ragione, ci dicono che non sta accadendo nulla di nuovo nonostante le aperture, certo verso il 10-15 giugno avremo il dovere di fare un monitoraggio attento anche rispetto a ciò che è accaduto a partire dalle aperture, ma se le cose dovessero continuare a andare come stanno andando significa che evidentemente potremmo trascorrere un'estate abbastanza tranquilla, certo ribadisco sempre, sempre, sempre occorrerà rispettare quelle che sono le regole. Un'ultima cosa, sapete bene che il nostro centro storico è interessato da lavori importanti da parte dell'Acquedotto Pugliese, ci sono anche altri lavori che riguardano la biblioteca comunale, che sarebbero dovuti partire purtroppo nel mese di febbraio, ma non siamo riusciti, il coronavirus ha impedito che ciò avvenisse e quindi alla luce anche di ciò che sta avvenendo e alla luce anche della imminenza della stagione calda dove noi contiamo di far arrivare tanti turisti in prevalenza italiana a quanto pare quest'anno, ma non guasta affatto che ci siano tanti italiani che vengono a trovarci, noi vorremmo far trovare il centro storico pronto, preparato affinché possa essere accogliente così come sempre è stato. Per cui nella giornata di venerdì, sabato e anche oggi, io mi sono confrontato con l'Acquedotto Pugliese, martedì verrà la ditta che farà i lavori della ristrutturazione della biblioteca, insomma dovremmo trovare una soluzione che ci possa permettere di rendere il meno impattanti possibili i lavori nel centro storico, perché il nostro centro storico è bello e meraviglioso e dovrà essere accogliente anche quest'estate e tra le altre cose, nonostante le limitazioni abbiamo in animo anche di fare qualche bella iniziativa nella nostra mini estate mesagnese, mini perché? Perché purtroppo le regole non ci consentiranno di fare tutto ciò che avremmo voluto fare, ma si tratta soltanto ovviamente del 2020 perché io sono molto fiducioso per il futuro. Ci risentiamo presto, ciao!